Rientravano da Malta i 10 giovani contagiati che hanno spinto il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca a varare una nuova ordinanza che obbligherà chiunque ritorni da viaggi all'estero, in particolare da Grecia, Spagna e Croazia, al periodo di quarantena in attesa del tampone che possa certificare o meno il contagio. Pena per chi viola la disposizione, la denuncia penale è una multa di 1000 euro. La regione campagna nel contempo sollecita il governo a mettere in campo il piano straordinario che preveda l'impiego degli uomini delle forze dell'ordine per il rispetto dell'ordinanza. Il dispositivo varato prevede anche la consegna di circa 550.000 mascherine per i residenti e turisti che si trovano nei comuni della costa campana particolarmente affollata. I comuni della costiera riceveranno quindi le mascherine che verranno distribuite poi attraverso i gazebo della protezione civile il 14, il 15, il 21 e il 22 agosto e gli operatori commerciali all'ingresso di stabilimenti locali.